Con il caldo africano nuove insidie per l'emergenza incendi che dall'inizio dell'estate non dà tregua ai vigili del fuoco. Dopo il dramma di campo marino momenti concitati si sono vissuti a Larino dove una famiglia la cui abitazione era stata circondata da fiamme e fumo è stata accolta nella caserma dei carabinieri mentre i vigili del fuoco con il supporto di militari e volontari di protezione civile procedevano con le operazioni di spegnimento. Il sindaco di Termoli Francesco Roberti invita la popolazione a collaborare evitando comportamenti a rischio e di segnalare tempestivamente qualsiasi tipo di incendio. Inoltre è importante evitare tutti quegli atteggiamenti che anche in modo involontario potrebbero causare un rogo non gettare cicche di sigaretta in zone ricche di vegetazione, prestare massima attenzione con le bombole del gas e alla cura del verde e delle sterpaie che a volte vengono raccolte ma accantonate in zone di proprietà. L'amministrazione ha imposto con ordinanza l'obbligo a tutti i proprietari di aree e terreni di non lasciare materiale di qualsiasi natura incustodito e di tenere puliti gli appezzamenti da sterpaie immondizia e provvedere con periodici interventi alla manutenzione della vegetazione. Ieri pomeriggio intanto vertice in prefettura a Campobasso con al tavolo regione, provincia, sindaci di Ururi, Larino e Campomarino, Asrem 118, tutte le forze dell'ordine Enel, Anas e Ferrovie. Obiettivo fare il punto della situazione dopo i disastri che si sono succeduti sul territorio e anche discutere su come intervenire eventualmente in questa fase climatica così estrema e anche gli ambientalisti devono rivedere il modo di concepire l'ambiente. Iniziamo un serio dibattito con tutte le forze sociali e organizzazioni professionali, dice il presidente dell'ambito territoriale di caccia 1 Campobasso Giovanni Antonio Santoro, ne va della sicurezza di tutti e della sopravvivenza anche della fauna selvatica. Il sottobosco va pulito, gli alberi secchi vanno eliminati, la riva di ruscelli e fiumi va pulita dagli alberi che ostacolano il normale deflusso delle acque. Bisogna favorire la biodiversità ma non a scapito della sicurezza dei degrediti degli agricoltori ed allevatori. Santoro aggiunge che si dovrebbe riconsiderare il reato di incendio, l'articolo 423 del codice penale, non solo rispetto all'incolumità pubblica ma anche rispetto al danno ambientale che si procura con aumento di pena.